secondo le statistiche di youtube solo l'un per cento di guarda i miei video iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie gina salutiamo al volo ricky c'è roberto bella nebu e tommaso rota grazie vediamo come va vediamo come va intanto andiamo avanti con allora intanto vi do un altro licks al volo grazie jacopo vigato grazie grazie caro cerco di salutarvi tutti e adesso si vince quattro game di fila quattro game di fila non abbiamo il martellazzo benvenuti alla live mattutina dedicata a candy crush no 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 a fort night come la va ragazzi come la va buon sabato buon inizio weekend è un po di relax per tutti quelli che oggi sono a casa compresa la domenica oggi una giornata veramente super super interessante per quello che riguarda il nostro giorno di svag buongiorno anche a te capitan jack buongiorno matteo massimo valentini gabri dai voglio salutare ancora un po di persone robie bello buongiorno emanuele party boy buongiorno anche a mario carnesale buongiorno nico mozbo in che ha senza occhi rossi è un po brutta ma l'aspettava via figa arriva l'invito di un signore merda è un po che non mi arrivavano gli inviti di questo signore mi serve un secondo di pazienza adesso gli sto aprendo discord momento non facile 11 marzo ragazzi mi sa che i biglietti no no non si buono razzo ma devastante cosa sarà il prossimo cast è questa è un'altra bellissima domanda raga con il cappello viola si vamos cerchiamo di tornare in sta cazzo di mentality altrimenti devo dire poi le parolacce si avevano dato anche un balletto mi sembra si non so come sia possibile che il tizio abbia vinto il fight non so cosa gli ho detto di sara la cata fratta ma con quel soggetto io non bado da nessuna parte che cosa cazzo mi hanno dato di nuovo ah minchia porco il cazzo giuza ha fatto il pazzo ma che cazzo fa che cosa cosa cazzo fa giuza gran pazzerello all'oxiuderello si è abbannato qua che cazzo fa giuza 13 mesi giuza lol grazie dei 13 giuza grazie di cuore mi sente si illegale sto pampo non c'ha senso no voglio solo capire se io non faccio se io non riesco più a vincerne adesso non ne vinco più due se comunque vale lo stesso quello delle 3,90 delle 2,90 12 corne al giorno quello delle 2,90 per capire eh merda 288 corone porca troia porca troia si vabbè che miraccia questo raga la perdo la corone non la prendo eh eh bravo zio bravo porca di azz non me l'ha preso subito non me l'ha preso cristo dio bravo cazzo devo dirti porco di azz porco di azz vamos però comunque la vetta è stata vinta top 9 non si può dire niente signori diamogli una marcia in più abbiamo fatto già 3 corone non è un problema ora la vinciamo salve zio tutto bene no non so cosa sia Kingdao e perché no si diciamo anche il discorso qua del titolo mi sembra molto figo perché eh ci sanno che è la loro esatto cioè comunque è la loro canzone di questa community che oggi sta interagendo con noi esatto sarebbe bello scegliere un titolo fatto da loro a me piacerebbe a me piacerebbe come l'ho fatto socialmente che è hashtag socialmente tra l'altro poi c'è la S alta la M e la O maiuscola non si sapete perché signori potete smettere di spammare spille tanto oramai ho visto che ci siete mettiamo subito l'estrazione e questa ve la zero fretta raga zero fretta calmi 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 merda la cosa fa che le azione merda così dentro in otto faccio proprio cagare raga no non riesco neanche a sparargli no no lascia stare per carità di gesù cristo benedetto incoronato della madonna porca miseria siete 2v1 bravi let's go let's go 16 kill win nice buono questo serviva mamma mia buono merda e qua abbiamo recuperato tutti i punti che non abbiamo fatto eh sì molto bene oddio però sta cosa mi fa paura che cosa si 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 ha preso ha donato tutto poi abbiamo vinto la spia da 8000 patatine ma cambia anche la quella delle 10.000 sbaglio avevo anche la sua delette no erano 6.000 per 300 corone entro il 2 marzo che gente strana si 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 ma ma chi cazzo sei oh oh what the fuck 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 Grazie a tutti.